lamponi da ghiacciaio ex dotazione alpini prima guerra mondiale al suo interno potrete vedere delle diciture che potranno ricondurre al tipo di fabbricante sono molto ben conservate in quanto è stata loro data una sostanza appiccicosa che tuttora permane sulla parte metallica la manifattura è chiaramente semi artigianale viste le condizioni in cui sono tenuti sembrerebbero ottimamente conservati anche le fettucce in cotone sono ancora buone all'apparenza sembrerebbero mai utilizzati nuovi in quanto le punte non sono per niente usurate al suo fondo vediamo un gancio metallico che dovrebbe tenere il tallone al centro sono agganciati e snodati per favorire probabilmente la mobilità del piede materiale molto molto solido sul fondo è riportato un sette non sappiamo se indicasse una qualche misura ma sembrerebbero piuttosto di taglia unica infanto abbiamo provato vari tipologie di scarponi vanno tutti bene si regolano infatti tramite questo anello mettendo questa cinghietta e passando su questi tre anelli tirando questa cinghietta con questa aggiuntiva a Grazie.